Una buona notizia. Sono salvi i fondi per la realizzazione di diverse opere pubbliche, dagli interventi negli aeroporti, fra cui quello di Salerno-Costa d'Amalfi e di Ponte Cagnano-Faiano. Lo prevede un emendamento del relatore al decreto fiscale Emiliano Fenu del Movimento 5 Stelle, approvato dalla Commissione Finanze del Senato, che interviene sulle norme dello sblocco Italia del 2014, spostando il termine oltre il quale scatta la revoca dei finanziamenti per ritardi su appaltabilità e cantierabilità delle opere. Adesso comincia il conto alla rovescia per la gara d'appalto e l'ottenimento della concessione totale, condizione indispensabile per perfezionare la fusione con la GESAC, la società che gestisce l'aeroporto di Napoli-Capodichino. Soddisfatti il sottosegretario dello sviluppo economico Andrea Cioffi del Movimento 5 Stelle. Siamo dovuti arrivare noi al Governo per dare un'accelerata. Invece l'On. Gigi Cascillo di Forza Italia chiede che ora si devono salvaguardare gli interessi dei proprietari delle aree.